Play-off di volley femminile, Scandici batte Bergamo e va in semifinale. Marco Fantasia. Scandici passa 3-0 anche a Bergamo e chiude rapidamente il suo quarto di finale. Rispetto a gara 1, nella quale Bergamo era partita meglio nel primo set, le Toscane non lasciano mai alle loro avversarie, piuttosto sotto tono, la speranza di far girare il match. Barbolini sceglie di Giulio al palleggio e ripropone Castiglio come libero, completando il domino delle straniere con Antropova, Ju e Washington. Il risultato netto si concretizza in circa un'ora e un quarto di partita, mentre Bergamo ora si concentra sui play-off di challenge, Scandici avrà una settimana di riposo prima di affrontare la sua semifinale contro una tra Milano e Casal Maggiore. La sticella si alza, è normale, giocheremo contro due squadre che stanno dando vita a una bellissima serie di semifinale, molto molto equilibrata, per cui chi arriverà sicuramente sarà un avversario difficile da affrontare. Adesso abbiamo una settimana per prepararla, recuperarla un pochino, lavorando bene. Quindi per giocarci un'opportunità, perché arrivare in una semifinale del campionato italiano non è una cosa da tutti i giorni, è una cosa che bisogna godersela, bisogna viverla, bisogna finirla, giocarla, sapendo che si è dato tutto.